La siccità in Canada e le inondazioni in Europa quest'anno hanno causato una significativa carenza di grano duro, innescando una storica impennata dei prezzi in tutto il mondo. L'allarme è arrivato in questi giorni dai produttori di pasta francese che chiedono alle autorità di mettere in atto un piano di emergenza. I disordini climatici mettono a repentaglio il commercio della pasta. In Europa denunciano i produttori della pasta industriale, un allarme rilanciato anche nel nostro paese. Da metà luglio il prezzo del grano duro degli stini è schizzato del 30% ma potrebbe impennarsi ulteriormente se le cifre canadesi dovessero rilevarsi definitive. Una situazione che potrebbe portare a diverse conseguenze, dalla difficoltà di approvvigionamento costante per i mulini fino ad un aumento dei prezzi che si potrebbero ripercuotere anche sul costo della pasta. E' preoccupante un po' la politica del passato sul grano, il fatto di aver relegato il grano a una commodity mondiale, soprattutto sul grano duro è un po' un errore perché stiamo parlando di un prodotto che comunque è una nicchia di mercato, stiamo parlando di un prodotto che rispetto al grano tenero 800 milioni di tonnellate al mondo, per il grano duro stiamo parlando di 35 milioni di tonnellate al mondo. Gli stock sono i più bassi dagli ultimi 14 anni a sta parte nel mondo e l'errore di averlo pagato poco negli anni passati ha disincentivato di fatto questa cultura. Oggi è bastata una situazione di siccità in Canada, in Manitoba dove ha colpito in maniera pesante per portare il prezzo del grano fortunatamente in rialzo. Poi oggi stiamo raggiungendo dei prezzi fin troppo elevati da questo punto di vista, però è anche vero che abbiamo avuto da tanti anni un grano duro pagato a poco più di 20 euro che non copriva neanche i costi di produzione del grano e quindi quest'anno un po' si sorride perché il prezzo è elevato, ma in realtà su queste culture ci vorrebbe un po' più di equilibrio. Ecco che allora il rapporto tra quello che è di fatto il costo di un pacchetto di pasta rispetto a quello che è il costo del grano iniziale vorrebbe un po' più equilibrato. Il fatto di trovare oggi dei pacchi di pasta che costano appena 30-40 centesimi è forviante perché si pensa che quello sia il reale costo di un chilo di pasta, ma non è così perché il grano non può costare più il grano che la pasta, ricordo che il grano ha una resa in semola del 75%, la semola quando arriva in uno stabilimento ha una resa dell'appena 90%, quindi se facciamo tutte queste detrazioni capiamo che un pacco di pasta non può costare meno di 90, un euro al chilo. Tutto il resto è un po' una fantasia finanziaria, grazie. Grazie.